eccoci qua amici con aria di mezzanotte intro e mi sono attrezzato un po' meglio così allora inizia così allora le parti dove vengono usate due corde contemporaneamente bisogna un attimo orecchio sentirle per fare più esattamente possibile più simile all'originale possibile comunque si parte alla terza corda dal 14 al 16 poi qua è sicuro che è doppio siamo sempre al tasto 14 della quarta e della quinta poi adesso non so se è una sola corda o due quindi quindi siamo alle sedicesimo tasto della quarta corda e poi ricado al quattordicesimo della quarta corda quindi e fin qua ci siamo così si fa quindi ci posizioniamo al 16 della quarta corda e al 17 della quinta e alziamo il 16 della quarta facendo plettrando sia la quarta che la quinta la quinta poi il mignolo fa da barret al 17 e blocca la quinta e la sesta quindi quindi plettriamo prima la quarta e la quinta alzando la quarta quarta poi plettriamo al 17 la quinta e la sesta e poi di nuovo la quarta e il 16 e la quinta al 17 e la quarta e il 16 la alziamo riepilogando tutto si ho suonato benissimo ma questo è il senso poi c'è questa parte riepiloghiamo riepiloghiamo scusate poi quindi alziamo al 16 della quarta corda e poi facciamo questo giochetto che è sempre nella stessa posizione barret al 14 alla quarta e la quinta e 16 tasto 16 la quarta e tasto 17 la quinta dovete un attimo a orecchio sentire la la ritmica e poi scende così di nuovo alziamo al 16 della tasto 16 della quarta corda tenendo fermo il 17 della quinta poi plettriamo da solo il 14 della quarta e il 16 della terza poi due volte fa così adesso lui ci mette di più di così perché però questo è lo scheletro praticamente terza corda 14 16 poi 14 della quarta e di nuovo 16 della terza quindi questo è il senso poi stesso discorso e ora allora corda terza corda 14 16 poi il solito barret e che lo ripeto che è quarta corda e quinta corda 14 e quarta corda 16 quinta corda 17 e poi il colpetto qua che è il solito del mignolo che è al 17 della quinta e della sesta perfetto non è così non è così facile sembra facile ma non è facile tra l'altro in questa chitarra ho le corde che sono alte lontane a mezzo metro dal manico quindi hanno anche qualche difficoltà e ritorniamo a noi poi un altro colpetto così fa un altro colpetto così fa e poi scende così di nuovo scusate di nuovo il 16 quarta 17 quinta poi quattordici quarta 16 terza 16 quattordici quarta 16 terza 14 terza terza poi seconda corda e quattordici e quattordici della terza poi quattordici terza e quarta due volte e poi di nuovo e qui parte a cantare il di nuovo è un 16 quarta corda 17 quinta corda Proviamo a riepillogarlo tutto, non a tempo, scusatemi, ho fatto il disastro, riproviamo le corde molto lontane, non è la chitarra adatta comunque, ecco anche se non è la chitarra adatta, questa è la uso più che altro da accompagnamento, comunque il senso l'abbiamo capito, adesso ho allenato via a casa e questo è l'intro di Aria di mezzanotte, ironia della sorte, vi racconto un piccolo fatto, io è la prima volta che molti chitarristi famosi forzatamente li ho cercato di conoscerli, quelli che mi interessavano, quelli che non mi interessavano, do di battaglia perché l'ho incontrato, mi sono trovato faccia a faccia, probabilmente lui si ricorderà anche, la prima volta che l'ho visto è stato un caso, tantissimi anni fa nel paese dove sono cresciuto c'è una statale grande che va in direzione Treviso, che taglia il paese a metà, più avanti c'è un otterio piazzale dove molti VIP passando si fermano. Fatalità una sera, ho visto VIP fermi per strada e mi sono subito fermato e mi sono trovato faccia a faccia con do di battaglia, mi ho stretto la mano, è stato gentilissimo, mi ho fatto l'autografo, è stato un bellissimo ricordo. Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie.